Le start-up innovative campane potranno rafforzare il proprio posizionamento competitivo grazie alla Regione Campania. Parte infatti la terza edizione dell'avviso Campania Start-up annualità 2023 per la creazione e il consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di conoscenza attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi innovativi in coerenza con le traiettorie prioritarie della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente RIS3 Campania. L'avviso è rivolto sia alle start-up innovative già costituite e operanti nelle aree di specializzazione della RIS3 Campania sia alle persone fisiche che intendano promuovere un nuovo progetto di impresa. Tra gli elementi centrali dell'avviso ci sono l'innovatività e vicinanza al mercato, gli investimenti con contributo da 50.000 a 350.000 euro, l'intensità di aiuto tra il 70% e l'80% della spesa ammissibile e la premialità. L'avviso è gestito attraverso la piattaforma digitale servizidigitali.regione.campania.it e accoglierà le proposte progettuali fino al 31 luglio. Diversi gli impatti attesi, partendo dalla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, passando per l'allargamento della base di start-up innovative e l'aumento dell'occupazione qualificata, fino ad arrivare all'avanzamento tecnologico sulle aree strategiche della strategia di specializzazione intelligente. Vale a dire aerospazio, agritech, biotecnologie e salute dell'uomo, beni culturali, turismo e industria creativa, energia, ambiente e costruzioni sostenibili, materiali avanzati e nanotecnologie, tecnologie abilitanti, ICT, trasporti e logistica, blue growth, moda e design. Negli ultimi cinque anni la campagna ha conseguito significativi risultati nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e delle start-up, attestandosi tra i territori più dinamici a livello nazionale, prima regione per tasso di imprenditorialità giovanile, terza regione per start-up innovative con oltre 1.420 start-up, con una crescita da luglio 2015 del più 455%, seconda regione per incubatori certificati, Napoli e Salerno rientrano nella classifica delle prime 10 città per numero di start-up innovative.